hai dei cetri cetri questo che è tutto usato non è che non vuole amassare varianti non è che è buono non è che non vuole amassare non vuole amassare non vuole amassare non vuole amassare come è riuscita come è riuscita Ora vediamo che si può riuscire in questa posizione. Penso che non c'è una posizione. Lovac C5, da cambiare la posizione. Ora vediamo. Ho bisogno di questo. Ho bisogno di questo. Ho bisogno di questo. Vediamo. 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 Vediamo vediamo. Vediamo, davvero, un pozzo sulle, Ora ho potuto fare una parte. Ora ho potuto prendere il livello. Ora ho potuto prendere il livello. Ora mi dajo la idea di prendere il livello. Non ho già mai fatto prima. ili sammoglio ilde 4 stvari trebao sammoglio ilde 4 a 5 dove mi pagaio ovoga dobro sada na c da će ništa ne prije zmijeniti ovoga ne prije ovoga zamijeniti onda će još a 4 možda ne bi tako ali ovako može stojim bolje imam velike šanse na pobjedu opa je to ovako sedmo sedmo je slabo ovako pa ovako sada će ovoga to pa prebacivati negde idemo ovoga to pa prebacivati možda prebacivati možda prebacivati možda ajde to pe peta ajde to pe peta a možda sam mogao šah pa tu pa nešto vidit ćemo vidit ćemo da li bi četiri sada o sad će još jedno dva četiri pet dva četiri pet sada ovako f3 ne uzmem da li ja to uzimam moram f4 moram f4 moram f4 sad ovako mislim da bi to moglo dobiti u nekoj pješačkoj opa 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 sad na šah diči on tu on šah tu on šah tu on šah pa idem to on će mi uzati ovoga ajde ovako ajde ovako to zbog toga da bi mogo krak d3 moram paziti da mi ove brze dođe tu znači ako će izmijeniti to pa ovaj mu je brz on mu ipak mora dopad poteza kraljem to 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 to